L'esultanza è semplice da capire, era per la mia principessa che purtroppo non è potuta venire allo stadio. Un gol importante perché al di là che era il 3-0, però è sempre bene contro un'avversaria pericolosissima come la Salernitana e poi fa sempre piacere segnare. Innanzitutto abbiamo giocato contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà e poi è sempre bello segnare ma soprattutto davanti a questa bellissima gente, quindi è ancora più bello. Una carica in più? Sì, speriamo di continuare e di non fermarci. Allora, ascolta, a Venezia non sei proprio entrato, quanto è difficile stare in panchina con la consapevolezza che c'è Benevento A e Benevento B, ma entrambi i titolari, no? E che sicuramente le occasioni non mancheranno perché già martedì sicuramente il mister farà il turnover avendo a disposizioni alternative del pari livello, però quanto è difficile stare in panchina? Beh, è molto difficile, però come hai detto te abbiamo una rosa così ampia che chi gioca, chi gioca fa bene, quindi aspetto solo il mio turno come eccesso stasera e sono contento di aver fatto bene. Luca? Quanta carica vi dà questo 4-0? Cioè vincere un derby, fare quattro gol contro una squadra, signore squadra come la Salernitana, quanto è importante per un calciatore? È importante tanto, pure perché ti dà fiducia, ti dà continuità, quindi dobbiamo solo continuare così e mettercela tutta fino alla fine. Certo, ma un'altra domanda, con chi ti trovi meglio a giocare, se lo vuoi dire? No, vabbè, mi trovo bene con tutti, siamo una bellissima squadra, siamo tutti forti, quindi chi gioca va bene lo stesso. Cosa non ti è piaciuto invece di questa Salernitana oggi? Ti aspettavi questa Salernitana un po' rinunciata al primo tempo, forse è stato un po' o più merito del Benevento? No, secondo me è più merito nostro perché come ho detto prima Benevento è una buona squadra, scusami la Salernitana è una buona squadra, ci ha messo pure in difficoltà, quindi mi aspettavo qualcosina in più, però essendo un derby ci sta che è un po' timorosa, soprattutto giocare a Benevento, quindi ci sta. Ti sei arrabbiato un po' con te io quando hai sbagliato il passaggio? Eh beh sì, perché c'è la possibilità di fare uno contro uno con il terzino, magari poteva fare anche quello, quindi non lo so. Allora, sai, quest'anno comunque le aspettative sono elevate, per quanto riguarda il Benevento c'è stata un'incursione di Improta che non solo si inserisce sulla fascia sinistra, ma anche qui ad offside, dopo chiaramente toccherà a lui, e tra l'altro mi fa anche perdere il filo. Volevo dire, sicuramente è un'annata dove le aspettative sono elevate, voglio dirti, magari tu non lo sai, non l'hai letto, che la prima impresa l'avete già fatto perché il Benevento non batteva la Salernitana in casa da 33 anni, dall'85, tu mi sai che non eri ancora nato? Non sono ancora nato perché sono 94, quindi l'abbiamo fatto stasera, siamo contenti di questa vittoria. Grazie Grazie Grazie